Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Eternal Se ancora non l'avete fatto mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdervi mai nessunissimo video Oltretutto oggi è sabato e quindi alle 19 sarò in live Ovviamente link in descrizione Dovrebbe essere in teoria il primo link, non mancate Andremo a fare delle cose interessanti Ma non voglio nascondervi il fatto che non riusciremo mai e poi mai a fare l'Angel Ring Ma nemmeno un singolo cristallo di questi Oddio forse l'Ozium Crystal potremmo anche farcela Andremo a cercare di creare i primi macchinari di questa mod e capirne il loro funzionamento Non so quanti riusciremo a farne, spero il più possibile ovviamente Perché è molto difficile e sono veramente tantissimi Ma prima di cominciare ho un casino di missioni da rischiattare Abbiamo quelle dell'esplorazione in cui abbiamo sconfitto varie cose l'ultima volta Vari mob, vari boss e tutto Quindi anche una Melo P Però in questa versione qui la Melo P si poteva craftare Sapete che manco me lo ricordo? Greve Tano, greve Tutte le missioni della nuova dimensione che le ho fatte tutte per fortuna Eeeh, questa era bella succosa proprio E poi queste qui che sono della categoria della scienza avanzata Bene, preso tutto Possiamo andare a posare le schifezze ora Lavastone, si ok interessante ma io l'ho fatta tipo 3 miliardi di anni fa Obsidian TNT, ma prendete queste TNT ma sono fissati con queste cose E qua abbiamo Personal Bodyguard, Iron Golem Questa rubettina qua dell'enderio ragazzi è molto molto buona come vi avevo detto in passato La andremo a fare in futuro per creare i nostri mob spawner Per prima voglio vedere se la corrente che andremo a fare con questa mod è compatibile con l'enderio Se sì, tanta roba Evoker Fang non ci interessa Per ora queste cose qui nemmeno Pestilenza Oh, ma questa roba qui sarebbe per far spawnare un mob I 512 utilizzi Se non sbaglio avevamo già avuto qualcosa di simile in passato Metto anche la melopi qui, chi se ne frega proprio Eeeh, non so dove l'ho messa Beh, addirittura potrei averla scaricata nel museo, eh Eccola qua Clicca destro per spawnare un Army of Amburied Non lo so, comunque erano quelli che uscivano al terreno Mentre questo è un Loyal Lil Sluge Ehm, è della Terra di Mezzo? No, della Fish and Dead Ok, non so, ma va bene E questo è un pezzo di una mappa? Di un qualcosa? Ma lo posso leggere? Oh, lo posso leggere veramente? Beh, non mi interessa però Magari è anche buono, quindi lo teniamo Ma per ora non mi serve proprio a niente Quindi, riassumendo tutto L'anello è questo Bisogna fare, grazie a questa mod, i Gold Crystal e l'Osmium Crystal I Gold Crystal sono molto molto complicati Perché oltre al Crystalizer Che ovviamente serve per fare dal liquido a cristallo Serve il Clean Gold Slurry Che si fa con il Gold Slurry e l'acqua Quindi un altro macchinario, Chemical Washer Però il Gold Slurry Si fa con l'acido solforico e un cosiddetto d'oro Quindi, altro macchinario Dissolution Chamber L'acido solforico si fa con un altro macchinario ancora Il Chemical Infuser Che vuole il Triossido di Zolfo e il Vapore d'Acqua Ovviamente, ci possiamo arrivare che nessuno di queste due cose C'è su un Minecraft normale Quindi, il Vapore d'Acqua si fa col De-Condense-Rating Cos'è questa roba? Io non so nemmeno da dove cominciare Direi di fare l'Osmium Crystal che sembra il più facile Infatti vuole il Chemical Crystalizer E il Clean Osmium Slurry Che è tipo la stessa cosa di prima E vuole comunque in tutti i casi l'acido solforico Fatto in questo modo L'acido solforico invece si fa sempre col Chemical Infuser Ossigeno e diossido di zolfo E l'ossigeno? Sì, vabbè Giuro, non so da dove cominciare Guardo se le missioni possono aiutarmi Beh, qua mi dice di cominciare con un Basic Energy Cube Penso che sia semplicemente una batteria E poi un po' più in alto Questo Metallurgic Infuser Che forse ci serve anche Che ci dovrebbe permettere poi di sbloccare la missione Per il Solar Generator Anzi, gli Advanced Perché i Solar si potrebbero già fare Va bene Prima di tutto quindi direi di prendere i Solar Normali Ci serviranno per fare il minimo di energia necessario all'inizio Anzi, già questi sono avanzati Perché quelli più bassi sono i Solar Panel Osmium, Redstone E questo roba qua Che, ok, non posso farlo senza il Metallurgic Quindi il Metallurgic è proprio la base di tutto Ok, sappiamo da dove cominciare Iron, Fornaci, Redstone e Osmium Ok, il crafting è effettivamente facilissimo Perché è il macchinario principale L'Osmium l'ho messo a cuocere tutto qua dentro Ok, preso Quindi due Fornaci, Redstone E se non sbaglio era così Perfetto, funziona Cioè funziona L'abbiamo preso Riposino più che meritato Ma c'è un mob vicino Cos'era, quello sotto? Oh mio Dio Da dove sono usciti? Ah, possiamo dormire ora Il problema è che non so dove metterli In questa stanza qui è piena ovviamente Dovrei fare una stanza apposita Per il momento quasi quasi le faccio tutte fuori È un po' uno schifo Ma prima o poi le sposterò E le metterò in un posto più decente Farò proprio una stanza apposita Oddio, già che non ho più animali Potrei anche farlo qua in mezzo ai campi Un po' brutto Ma vabbè, meglio di niente Per il momento Vada per qua fuori Ovviamente non funziona Non funziona perché vuole gli RF Ah, perfetto Allora possiamo fare un generatore normale di RF Tipo un motore Un motore qualsiasi Mentre la batteria cos'è che vuole? Ok, un crafting abbastanza semplice Semplicissimo Questa roba qua Ok, sempre Metallurgic Infuser Che è Iron e Redstone Ok, dobbiamo soltanto trovare un modo per fare RF In teoria, scrivendo Generator Qualcosa uscirà Palla Eolica Come sempre però vuole questa roba qui Col Metallurgic Infuser Pannelli solari idem Quindi non si possono utilizzare energie rinnovabili Ma queste cose qui dell'Extra Utilities In teoria Se non ricordo male Fanno tutte quante RF Bisogna soltanto vedere qual è quella che ci conviene fare Ender Generator potrebbe non essere affatto male Perché brucia le Ender Pearl Noi non ne abbiamo tantissime Però possiamo ottenerle Potremmo fare una farm di Ender Pearl Ok, cominciamo Prima di tutto una chest Mettendoli così facciamo i Machine Block Che sono la base per le fornaci Tranne per il Survivalist Che è proprio quello più basilare di tutti Ma sinceramente fa un po' schifo Poi un bellissimo Fornace Generator Mi manca soltanto una piccola fornacina normale Perfetto E già questo qui basterebbe per avere la corrente Dovrebbe andare a Coal Se noi volessimo fare quello a Ender Pearl Ossidiana e Ender Pearl Vorrei vedere prima quante ne ho però Ok, ne ho uno stack Ne ho altri otto di qua E col fatto che in questo mod Perché lo stack è da 64 Non da 16 Potrebbe anche essere molto molto interessante Ok, dai, vada per questo L'Ossidiana Me ne sei donato un pezzo Quindi lo faccio così E in teoria Eccolo qua Sta andando? Sì, sta andando Uh, meno male che questi qui non vogliono Grid Power Perché se no, ragazzi, sarebbe stata la fine Veramente Non ce la voglio di fare tutto il resto Eh, lo stack Caricato? Sì, l'ha caricato E quindi, ora che ha caricato al 100% questo L'energia prodotta da quest'Ender Pearl Non sta andando sprecata Perché si sta caricando questo qua Che contiene 100.000 RF Ragazzi, 100.000 RF Per come siamo messi noi Ovvero che abbiamo fatto soltanto un macchinario È veramente tantissimo Veramente tantissimo Ovviamente, andando sempre più in là 100.000 non saranno niente Però beh, in genere È difficilissimo startare da un generatore così potente Ora, qua voleva soltanto della Redstone Ah, la Redstone si carica qua di lato E poi l'Iron ho messo qua così Eh, ok Io provo La Redstone, guardate Si carica come un... Boh Va bene Vorrei non mettere troppa Perché a parte questi qui Ho visto che ce ne servono veramente tantissimi Quindi potremmo anche farne veramente tanti In questa chest qui Metto le cose che ci parebbero servire Riguardo a questa mod Ovvero, ad esempio L'Ender Pearl Per far andare il generatore Ora che abbiamo questi Possiamo fare, tipo Qualche pannello solare? Una batteria? In teoria sì Quindi, per fare una batteria Che non sono batterie Ma sono Energy Tablet Servono due Di questi pallini qui E due Energy Tablet Quindi servono quattro pallini Si è fermato Ah, finito l'energia Ho fatto male i calcoli Pensavo fosse molta molta di più Ok, ecco il quarto Quindi due di questi Per questo pezzo centrale Vuole dello Steel Osmium E vetro Ti prego Dimmi che lo Steel Non è difficile da fare Ma Sembrerebbe essere un materiale lo Steel Cioè un lingottino Derivato dalla cottura e basta Eppure non ce l'ho No, non mi dite che si fa così Ok, però posso anche bruciare le cose in Steel E ottenerlo E noi le cose in Steel In passato le abbiamo trovate Quindi in teoria bruciandone quattro Dovrei poter ottenere le robe Che ci servono Eh, ma le ho buttate tutte quante Le cose in Steel Facevano schifo Facciamo che ce ne occuperemo Un altro giorno Dell'energia Almeno dal punto di vista Riguardante la batteria Che attualmente Non è nemmeno così necessaria Ah, che carino Quando è pieno si ferma Ma allora è top E che vuol dire che qua il tempo sta aumentando Ah, ok Mi dici da quanto tempo è fermo Beh, intanto riscatto le emissioni qua Perfetto Soldoni extra E vorrei vedere un pochettino Riguardo la sola del panel Così almeno facciamo l'energia tranquilla Vuole sempre questo cosettino rosso qua al centro Del vetro Redstone E osmium Facilissimo Però mi serve decisamente Molto molto di più Di questi pallini qui Quindi Quello mio Cerca di produrne tanti Ah beh, posso anche riutilizzare i tablet Perfetto Me ne servono quattro però Quindi pannelli in vetro Dovrei averne Ok Per fortuna che non butto mai nulla Sinceramente però non penso di poter fare molta energia così Cioè Ne faccio quattro basilari Che tra l'altro non so nemmeno se funzionano realmente O sono un pezzo di un crafting Perché potrebbero funzionare come no questi qua Vediamo un attimo se li metto per terra Infatti Non li posso mettere per terra Questo vuol dire che fanno parte Del crafting e basta È soltanto quello dove potrò metterlo per terra E creerà energia Questi qui no Beh, almeno questo però lo voglio fare Così almeno per le prossime volte Doverò avere l'energia che mi serve Anche se non la posso immagazzinare E questo è un grosso problema E risolverò In poche parole mi servono dodici solar panel di questi qua Quindi di conseguenza Di questi altri qua Me ne sarei veramente tantissimi altri Spero bastino Faccio i pannelli Ed ecco qua tutto il resto Dodici Se vedete che mi sono spariti i livelli È perché ho cliccato per sbaglio Nel coso della dimensione qua fuori E ogni volta si resettano Ma è soltanto una cosa visiva Comunque devo fare altre quattro di queste qua O forse sto scherzando Mi sembra due Sì dai erano due per forza Perché erano quattro Con quelle che avevo già qua Ok Cosa che mi rimane Osmium Dust da fare Ehi Però l'Osmium Dust si può fare tranquillamente Con Ok questi sono stick normali Iron e stringa Cioè l'inventario che è un disastro Veramente Come sempre del resto Ok Martello fatto E voleva quattro polverine Ma non va Ma scusatemi È una trollata O li vuole per forza messi così Eh no non va No Non mi dite che soltanto con il blocco Preso con sick touch Lo potrei prendere Lo potrei prendere con sick touch C'ho il piccone In alternativa va per forza fatto Con i macchinari Pulverizer e robe simili Io non ho mai fatto una di simili In questa serie però E di certo non mi metto a far l'ora Per una cosa del genere No sick touch ce l'ho Sulla cetta Non sul piccone Quartz e greenstone Questo Dovrebbe essere facilissimo E dovrei conoscerlo Quartz o stone Cobblestone E wooden gear Perfetto Quindi wooden gear Quartz ho messo così Forse l'ho sbagliato Era più in basso Stone E cobblestone Perfetto Eccolo qua Direi di metterlo Anche qua davanti Chi se ne frega Mettiamoci dentro L'osmium E poi dovrei fare Un altro pezzettino Però qua c'è un problema Non so come si chiami So che hai fatto il legno Potrei provare A indovinarlo Perché dovrebbe essere Una roba tipo Fatta così Però forse voleva il legno No ok Ti rinuncio Lo cerco 400 crafting No vi prego Ok eccolo qui Ah ma era una L No no non ci sarei arrivato Comunque lo attacco qua sopra E comincio semplicemente A girarlo Dove un po' di giri Dovrebbe darmi Ecco qua La dust Mettiamone un po' di più dentro Non so quanto me ne serva Anzi Magari se controllo è meglio Ne vuole due per pezzettino Ne devo fare quattro in tutto Quindi sono otto pezzi Ok Eccoli qua Beh un po' fatica Ma stiamo facendo tutto Ci dovremmo essere Quindi uno Due Tre E quattro E questi Dovrei già poterli mettere Per terra In teoria Infatti Non hanno proprietario Sono pubblici E possono storare 38 K RF Che forse sono 38 Mila RF Perché il K Ovviamente sa significare Il migliaio Non hanno un inventario Giustamente Sono pannelli solari Quindi già questo qua Ok E' un generatore Che produce energia Dal sole Già questo è utilizzabile Ma noi Possiamo direttamente Fare quello dopo Che occupa meno spazio Voglio vedere però Se ne vale la pena Perché se questi qui Storano 38 Mila Quindi praticamente 40 mila l'uno Questo qua gigante In verità Stora 80 mila Quindi E' dimezzata La potenza Ma la potenza Di accumulo O la potenza Di generare Elettricità Io spero Che sia soltanto Quella di accumulo Perché in quel caso lì Se no mi converrebbe Averne tanti piccolini Io nel dubbio lo faccio Non mi interessa Così almeno Ce l'abbiamo Questa è compiata Ah è vero Giustamente Era la quest Devo farlo per forza Non avevo scelte Era l'obiettivo di oggi Almeno quello Un panino Grazie Bisogna poi vedere Come utilizzarlo E quanto è grosso Nel senso Se Dovessi metterlo qua Ah Ok Ok è enorme Non è piccolino E guardate un pochettino Qua All'uscita Di cavi Eh sì Non è ancora utilizzabile Dobbiamo fare i cavi Dobbiamo collegarlo A tutti i macchinari Indubbiamente E' parzialmente inutile Questa cosa Perché devo fare Una sua zona Cioè Se i macchinari Sono così grossi Ok che alcuni Sono piccolini così Però insomma Sicuramente Serve una zona Dedicata A tutti questi macchinari Ci tengo a dire Che è vero Che noi stiamo facendo Tutta questa roba qua Per fare l'anello E qualcuno vorrebbe dire Vabbè dai Non farlo più Non ne vale più la pena È vero Fare tutto questo Per l'anello Non ne vale la pena Ma tutti questi macchinari Servono a un'infinità di cose E l'anello È solo una delle tante cose Che ci interessa Di fare Con tutti questi bellissimi macchinari Quindi È una cosa che andava fatta Prima o poi E l'anello È soltanto il motivo Che ci sprona a farli Ma andavano fatti Detto questo Probabilmente I cavi E altre cosettine Proveremo a farle in live Non faremo nulla Di diciamo Essenziale Ma comunque Molte cose importanti Le andremo a fare Mi raccomando Non mancate Come sempre Il link in descrizione Io spero che il video Vi sia piaciuto E quindi Ciao a tutti